Ho pensato ad una simpatica idea per memorizzare le parole del Padre Nostro. Guardate un po' il nostro modello, ci sono tante croci, io ne ho fatte sei, con tutti i versetti, quindi ho diviso il Padre Nostro in sei versetti. Li ho già precedentemente ritagliati, vedete, già prontissimi, poi con una bucatrice oppure con un ago, quindi facendovi aiutare, andremo a fare nella parte superiore un piccolo foro, semplicemente così. Se abbiamo a disposizione un anello, utilizzeremo questo, inseriamo tutti gli elementi del Padre Nostro in questo modo per creare il nostro porta chiavi personalizzato, quindi inseriremo tutti gli elementi, uno alla volta, sono colorati, con tutte le parole, naturalmente prestando attenzione a mettere in sequenza le parole giuste, naturalmente questa è la priorità. Lo potete anche plastificare in modo tale che durerà più nel tempo e non correremo il rischio di strapparlo, naturalmente dopo averlo plastificato potremo fare il buchetto. Ultimi due, sarò velocissimo, velocissimo, ecco, uno e due, ci siamo quasi, è completo il nostro porta chiave, altrimenti il nostro minuto insieme passa. Eccolo qui e voilà, una simpaticissima idea da regalare al papà, alla mamma, a tutte le persone a cui vogliamo bene. Vi piace? Vediamo nella playlist inquadrando il QR code. Un minuto con denigro. Ciao!